Nessun maschilismo, nessun femminismo, color l'uomo e la donna che combattono un'unità, un'alleanza, fatta di voglianza, da sempre l'uomo sottomette la donna, per mostrarla come un oggetto, come una conquista. Accettare il servizio militare, accettare ogni guerra, per diventare un vero uomo, forte, virile, senza paura, uno che non deve piacere mai, uno che non deve piacere mai, mai! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!